Ciao a tutti ragazzi, noi siamo i Vlog Gaming e questo è il nostro primo video sul canale e oggi in poche parole abbiamo preparato un'intervista doppia però che sarà divisa in due parti prima io poi lui ci presenteremo e faremo capire quello che vogliamo fare vi lascio l'intervista nome Davide cognome Arioli età undici, quasi dodici soprannome dado giornata tipo mi alzo, dipende che orario decide mia mamma purtroppo mi alzo, vado a scuola, a scuola studio, non faccio come certe persone che vanno quel cavolo che vogliono torno a casa, il lunedì e il giovedì vado a calcio, un pomeriggio torno a casa, ceno, guardo un po' il cellulare e poi vado a letto sport pratico calcio ma ho praticato anche tanti altri sport punto di forza sai che non lo so prossima domanda punto debole penso che il mio punto debole sia che non riesco sempre a dire ciò che penso che squadra tifi? Atalanta questa sera c'è anche la partita la prima in Champions League e bisogna vincere sogno nel cassetto sinceramente vorrei viaggiare tanto il mondo e lo dico spesso, vorrei andare in Africa, in Kenya e ultima domanda, cioè la più importante perché hai aperto un canale YouTube? ho deciso di aprire questo canale YouTube, Vlog Gaming perché ci è venuta un'idea un po' così, un po' scherzando magari anche poi abbiamo pensato, cavolo però ci starebbe farlo adesso noi non sappiamo se riusciremo a far successo, ma ovviamente ci proveremo e niente adesso tocca a te nome Luca cognome tagli occhi età 11 anni a dicembre ne compio 12 soprannome dipende, alcuni mi chiamano taglio, alcuni Luca, dipende da persona a persona giornata tipo mi alzo la mattina, naturalmente vado in bagno a mai lasciar perdere poi mi alzo, faccio colazione una volta che ho finito di fare colazione mi vesto la carterra non ho preparato la sera prima poi prendo la bici, vado a scuola e fuori da scuola incontro i miei amici ci divertiamo un po' nel frattempo dell'attesa che apre la scuola poi entriamo, entro alle 8 a scuola studio e non faccio il bordello e esco a luna, vado a casa, pranzo gioco un po' a forte nei video giochi vado all'oratorio poi il martedì e il giovedì ho calcio che inizia alle 14 alle 7 poi torno a casa alle 9 ceno, gioco ancora un po' a Fortnite poi verso le 11 guardo la televisione e mi addormento sport calcio punto di forza eh, credo che... non so se ne ho un punto di forza bisognerebbe farmelo dire dai miei compagni e dai miei amici punto debole i punti deboli, devo dire la verità, ne ho tanti ma secondo me quello che... il mio punto debole è quello che... il peggiore è la rabbia che me la prendo troppo spesso e per delle sciocchezze che squadra ti fai? Atalanta, forza Atalanta nel cuore in realtà è gioventino non è vero sogno nel cassetto io vorrei diventare un informatico e... vorrei avere un futuro da informatico, eccetera e ultima domanda perché hai aperto questo canale YouTube? io ho aperto questo canale YouTube insieme a Davide perché ci è venuta una mezza idea così e abbiamo detto perché non aprirlo un canale YouTube? e io ho avuto già dei canali YouTube ma anche se non sono andati tanto bene e questo qua spero che vada bene anche se non sappiamo se continueremo a fare i video e questo è il mio sogno nel cassetto spero che questo canale porti frutto e spero che questo video vi piaccia e... iscriviti al canale Grazie a tutti.